Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Clotus. Prima di iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su YouTube a partire da 0,99 centesimi al mese oppure su Twitch con Amazon Prime Video l'avete gratuito. Ricordatevi però di rinnovarlo di mese in mese. Vi ricordo anche il nostro sponsor Fantasiastore.it, uno degli store online più forniti d'Italia, spedizione in 24-48 ore, codice sconto Lotus 5 per avere il 5% di sconto sui prodotti non scontati. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del ban che c'è stato di una carta di Modern Horizon 3 in Pauper. L'avevano già detto prima dell'uscita che ci sarebbe stata una carta simile ad altre carte bannate che al 90% sarebbe stata da bannare. Cosa è successo però? Diverse persone si sono lamentate, diversi content creator importanti, persone che sono anche nel panel del formato, si sono lamentate del fatto che a breve ci sarà il Pauper Geddon a Pisa e voi direte ma che gli frega la Wizard e Pauper Geddon di Pisa? No, gliene frega perché comunque è uno degli eventi più grossi al mondo live di Pauper e Pauper è un formato molto in ascesa, soprattutto in Europa. La percezione che ho io è che in America si giochi ma non sia così dirompente come in Europa. In Europa mi sembra veramente uno dei formati più giocati al momento, in Italia poi vabbè, non ho dubbi sul fatto che sia il formato a 60 carte più giocato in Italia, non ho dubbi. Tutto il gruppo delle leghe Pauper, del Pauper Geddon hanno fatto un lavoro incredibile negli anni passati, hanno creato delle community veramente ramificate sul territorio, tante e ben gestite e questo ha portato il formato a crescere. Oltre al fatto che il Magic attuale è veramente veramente complesso e molto frenetico, mentre Pauper in teoria lo è di meno, anche se veniamo da due banni in pochi mesi, cambio di meta, cambio di deck, veramente in questo momento storico, proprio in questi due o tre mesi è un disastro anche Pauper purtroppo lo devo dire. Però passerà e poi ci sarà una stabilità maggiore nei mesi che verranno. Comunque hanno banata questa carta, che carta è? È la riete, cranico in italiano, cranial ram in inglese, eccola qua, ve la apro meglio. Un fantastico artefatto a costruire un rosso e un nero con living weapon. Living weapon cos'è? È un'abilità per cui quando questa carta entra in gioco viene creato un germe 00 che viene subito attaccato a questo equipaggiamento, quindi non muore. La creatura equipaggiata prende più X più 1, dove X è il numero di artefatti che controlliamo se stesse un artefatto, equipa con due mana. Allora, questa carta qua ha subito destato mille preoccupazioni da parte della community di giocatori e quindi in realtà in tanti si aspettavano un ban. Allora, il problema qual era? Che il ban programmato è il 24 giugno, se non erro, il giorno dopo il Power Gendon. Quindi, appunto, come stavo dicendo prima, tantissimi content creator italiani, giocatori di pauper, eccetera, hanno detto ma perché cavolo ci fate giocare per due o tre settimane con questa carta e poi tanto sappiamo già che probabilmente la dovrete togliere con una probabilità molto alta, quindi ovviamente la certezza non ce l'ha nessuno perché magari poi al Power Gendon non sarebbe neanche arrivato non copia in top 8, non lo possiamo sapere, questo è prevedere futuro e non possiamo saperlo, ma usando dei ragionamenti sensati si poteva arrivare a pensare che la cranial ram avrebbe dominato quel tipo di torneo. Quindi perché farci buttare 20 giorni, tempo, energie, eccetera, su un meta che poi tanto non esisterà più? la decisione è stata di bannarlo preventivamente, quindi oggi il 6, il giorno dell'uscita, il giorno prima dell'uscita giustamente perché se l'annuncio fosse arrivato domani sarebbe stato un po' un problema, nel senso che a poche ore magari da un torneo pauper dove questa sarebbe stata legale, far uscire l'annuncio del ban sarebbe stato veramente brutto. Scusatemi, ho tolto, ecco qua. Quindi tutti sono stati d'accordo nel panel di bannare preventivamente questa carta. Andiamo a vedere poi i ragionamenti che sono stati fatti. Allora io vi faccio un riassunto di quello che c'è scritto, l'ho già letto tutto e non c'è scritto niente di che, ma ve lo comprimo così non perdiamo tempo. Questa carta qua insieme alle terre artefatto e ad altri artefatti economici ovviamente è molto forte, no? È veramente molto molto forte. Hanno già bannato tutto ciò che luce con il Glitters e la placca, la Cranial Plating e quindi questa carta è la naturale, cioè il ban di questa carta è la naturale prosecuzione della linea intraprese dalla Wizard. Qualcuno dice, devono bannare le terre artefatto di qua e di là, si parla di questo. Però se non l'hanno fatto, perché l'hanno spiegato? Le terre artefatto sono un tratto distintivo del formato Pauper, essendo poi legali in Commander, però in Commander le giocate uno per, quindi... Comunque in Pauper sono molto presenti e sono un tratto distintivo e secondo me è bello che ci siano. Qualora venissero bannate, ovviamente parliamo di quelle monocolor stappate, perché le bicolor tappate sono di per sé lente, perché entrano tappate, quindi il problema di questi mazzi affiniti è quasi sempre la velocità. Infatti Grixis Affo, che è un mazzo che adesso, in queste settimane post-ban di Glitter e pre-uscita di MH3, è un mazzo che secondo me è uno dei più forti, assolutamente uno dei più forti fino a oggi, poi domani cambierà tutto, però non era un mazzo da ban, perché non è così esplosivo, quindi tu lo puoi editare, puoi tranquillamente giocare a degli spac artefatti, degli esili artefatti per distruggere la mana base, è un mazzo che gioca solo terra artefatto, dust to dust, è un problema grosso post-side, quindi i mazzi che preoccupano con gli artefatti sono i mazzi che hanno il cambio di passo e che sono veloci, quindi mazzi aggressivi. In questo caso questa carta qua avrebbe dato vita a mazzi che hanno quel cambio di passo, perché è una carta veramente molto molto forte. Allora le differenze con poi si parla dell'Hydro Blast e dell'Area Elemental Blast che possono togliere ed è vero. La Cranial Plante ha le differenze, ovviamente la nuova placca Equipa 2 non ha 1 e questa è una differenza grossa, tanti l'hanno sottovalutata secondo me e io sono d'accordo su quello che dice Gavin. L'Equipa 2 è molto più macchinoso che l'Equipa 1 e rende molto più pesante la carta. L'altra differenza è che la placca vecchia la potevamo assegnare instant e quella era la parte veramente sbroccata di quella carta perché con due neri, con tre attaccanti, bastava ne passasse uno per equipare lì. Poi se l'avversario ci fa la removal patch però abbiamo la possibilità di far passare quasi sempre la nostra placca e questo era veramente OP. Questa carta non ce l'aveva. Però lato positivo invece di questa carta è che crea la creatura e l'Equipa subito, quindi non dobbiamo neanche pagare del mana per spostarla. Nel momento in cui entra abbiamo il pezzo. Altra cosa, se la giochiamo in una shell, se l'avessimo giocata in una shell con Glintok e la pescatrice, avremmo potuto ricreare anche la creatura. Quindi questo è un fattore da non sottovalutare. C'è un fattore che rendeva questa cranial nuova diversa da quella vecchia e in alcune situazioni paradossalmente migliore. In alcune situazioni, ripeto, non sto dicendo che sia una carta migliore della cranial petting, non lo penso e non lo dico assolutamente. Lato negativo di questa cranial qua è che è bicolor ed è rossonera. Quindi non è che sia proprio così facile metterla in tutti i deck. Io ho fatto un team trio il weekend scorso con Aizen, anche un ragazzo che è nel team che ha deciso questa ballist, e abbiamo parlato tanto sia dei mazzi anche con altri ragazzi, sia dei mazzi di dove mettere questa carta, eccetera. E in realtà non è che fosse così semplice, perché Grixis è un mazzo un po' più lento, quindi più etabile. E anche questa carta era un artefatto, quindi non era così difficile toglierla. Cioè se io metto Dust to Dust, Casting to Fire, Hydro Blast e quello che volete voi, la posso togliere senza troppi problemi. D'altro canto, RB non è una shell così semplice per un mazzo artefatti, se vogliamo giocarlo solo RB. E Mardu avrebbe avuto più o meno gli stessi problemi di Grixis, quindi una mana base più lenta, molto artefattosa e più etabile. Quindi come vedete c'erano dei lati positivi e dei lati negativi. La decisione alla fine è stata di fare il ban di emergenza. E io mi trovo d'accordo con questa scelta. Sono d'accordo ad averlo fatto adesso. Mi piace l'idea che chi decide non abbia aspettato del tempo inutilmente al 99%. Cioè aspettare con questa carta non serviva praticamente a niente. Avremmo semplicemente visto un torneo dominato, un meta dominato e sarebbe stato inutile. Però, però, c'è un però. Adesso che è bannata questa carta, ci sono altre carte di MH3 che possono spostare tanto il formato. E andiamo a vedere la prima. Allora, loro hanno già detto che un'altra carta dell'espansione che stanno visionando, che è in watchlist si dice, quindi stanno guardando in vista di un possibile ban, e Refurbished Familiar. Allora, questa carta qua, ve la apro qua che è più grossa. È una carta sbroccata, ragazzi. Io non l'ho ancora provata, la proverò nei prossimi giorni. Quindi stasera, alle 22, facciamo una live in cui parliamo del ban, parliamo delle nuove carte di MH3, e proviamo a montare i deck di post-MH3, ovviamente post-ban, quindi senza l'artefatto equipaggiamento. Quindi venite in live alle 22, perché ho bisogno del vostro aiuto per montare le liste che domineranno il Papa Rigged. Allora, il Refurbished è una carta pazzesca. Io non voglio dire che sia più forte della placca, però se ragiono in termini di viabilità in più deck, in termini di sinergie con più carte, in termini di sostenibilità come carta, io il Refurbished lo metto a un livello più alto ancora, probabilmente, perché costa solo umana, solo di un colore, fa sempre vantaggio se entra, perché male che vada fa scartare una carta, e se l'avversario non ha una carta in mano, peschiamo una carta. Cioè, quindi è proprio forte come carta. Tra l'altro il Pauper, come dicevamo prima, Clint Hawk, Pescatrice, i Ninja, cioè sono tutte carte che vanno in sinergia con questa carta. Stasera proveremo a montare probabilmente una lista di Ubi Ninja con anche a Refurbished, quindi venite perché sarà divertente, ho bisogno del vostro aiuto, perché io conosco quasi tutte le carte regali in Pauper, ma non proprio tutte, quindi mi dovete aiutare. E commentate durante la live, non dovete avere paura, anche se dite una cavolata, chi se ne prega. Refurbished Familiar è una carta veramente forte, con Glym Talk. Fare tappo 1, 2, 1 che ti fa scartare, Glym Talk riprende in mano, tappo 1, 2, 1 che ti fa scartare, è una giocata che, cazzo, cioè è pesante poi da sostenere, ci ha fatto scartare due carte, c'ha due volanti in più, eccetera. Anche con Ephemerate ci sono tante carte. E ripeto, invece questa non ha bisogno di chissà quale supporto degli artefatti, nel senso che noi la vogliamo pagare 1, quindi dobbiamo avere 3 artefatti. Quindi una volta che giochiamo 12 terra artefatto su 20, e giochiamo 15 artefatti su 40 del resto, abbiamo 27 artefatti, che è già un buon numero, quindi capite bene che non dobbiamo neanche committarci troppo sulla strategia artefatti, ok? Perché non ha bisogno questa carta di quello, ha bisogno semplicemente di un tot di artefatti. Se abbiamo il 50% di carta artefatto, probabilmente già non è male. Magari non la facciamo di secondo a costo 1, la facciamo di terzo, la facciamo di media al secondo barra terzo, va bene, cioè la carta è talmente forte, costa talmente poco, che anche se lo paghiamo 1 di terza, facciamo un drop a 2 a rimorchio, va benissimo. Carta fortissima, in watchlist io non so quanto durerà ragazzi, per me è una carta veramente bellissima. Poi magari i mazzi che la giocheranno non saranno così forti, ne dubito. Altre carte interessanti, Basking Broad Scale, 2-2 a costo 2, adatta 1 con 2 mana, abbiamo già parlato della combo con l'inglincantesimo di Tempest, che ci permette di fare 1-1, 0-1 infiniti, e di fare quindi mana infinito colorless, ovviamente dobbiamo sacrificarli, quindi non avremo 0-1 infiniti sul board, ma li faremo nello stesso turno, e creeremo, aggiungeremo mana colorless infinito. Ecco, questa è una carta forte, che fa parte di una combo, secondo me, molto molto forte, il problema di questa combo, secondo me, è tutto il resto. Nel senso che la combo per me è performante, il problema è che tutto il resto non sembra supportare benissimo questa combo, quindi bisognerà trovare, bisognerà provare a trovare la build giusta per sfruttare al massimo questa combo. Si riuscirà? Non lo so. Probabilmente è più no che sì, però è una carta molto molto forte, molto molto interessante. Altre carte interessanti che entreranno nel meta, Eviscerator Inside, due mana, sacrifichiamo un artefatto, una creatura, peschiamo due, e a flashback 5. Ne ho già parlato con alcuni ragazzi, vi ripeto il mio pensiero su questa carta, non è che sia più forte, più scarsa di Deadly Disput, semplicemente una carta diversa. In un meta dove devo essere più proattivo, velocemente, preferisco Deadly Disput. In un meta, invece, dove le partite vanno tanto per le lunghe, questa potrebbe essere meglio, perché riuscire a giocarla due volte è forte. Ovviamente, ragazzi, il flashback non è surprise, cioè non è che l'avversario non lo sa, lo vede, è nel cimitero, quindi è molto pietabile il flashback di questa carta rispetto alla carta giocata Instant con due mana aperti, quindi questo è un lato negativo. Poi abbiamo le terre triple, ecco, queste terre qua le abbiamo subito commentate come terre forti, no? Ci danno mana colorless, le possiamo sacrificare a Instant, ci prendono una delle tre terre del nostro trittico di colori e hanno pure l'effetto gratis di ciclarsi tappando il trittico di colori. Ecco, queste bisognerà capire quante incideranno, quanti tricolor midrange control usciranno grazie a queste terre, vedremo. Sicuramente c'erano già dei tricolor competitivi, Gersky, Ephemerate, Grixis, che però ha base artefatto, quindi non vuole queste carte, comunque, bisognerà capire se ci saranno deck nuovi con tricolor con queste terre qua, però sono da segnalare, sono molto importanti. Vi segnalo anche il Trabin Charm, secondo me è una delle carte più forti per Pauper dell'espansione, fa danno, parla al doppio del numero di creature che controlliamo a una creatura, al doppio, quindi basterà avere due creature per fare quattro danni a Instant a posto 2 col bianco, non mi sembra male, distrugge un incantesimo, esiglia un qualsiasi numero di cimiteri di player, quindi un 8 contro il cimitero, un 8 contro gli incantesimi e una removal, se abbiamo mazza base creature, però poi Trabin, da cui deriva anche il nome Trabin Charm, sicuramente sinergico. Ultima carta è Sneaky Sneaker, bellissimo il nome, il disegno, è tutta bella questa carta, però purtroppo come la combo di prima verde e nera bisognerà capire se riescono a romperla. Sneaky Sneaker, 2-1 a posto 2 volante, quando peschiamo la terza carta rimettiamo in campo toppato lo Sneaky Sneaker, lo Sneaky Sneaker. Forte, però bisogna capire se riusciamo a trovare una lista dove vogliamo fare tappo 2, 2-1 volante e che poi riusciamo a rianimare bene pescando 3 carte. La sinergia principale con Brainstorm non è difficilissimo, basta fare un Brainstorm a Instant e lo rimettiamo in campo toppato. sembra forte, vediamo se Ubi Fairy la giocherà o altre liste la giocheranno perché alla fine potrebbe essere giocata anche solo come value card, no? 2-1 a costo 2 e alla fine poi tutti i peschini grossi che giocano le Lorien, le Brainstorm diventano rianimini per queste carte, quindi alla fine sono sinergici, non sono male e niente. Vediamo se riusciranno a romperle anche in un altro modo. Siamo giunto a conclusione di questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa ballist, se vi è piaciuta e se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!